amici di braccia mia ancora oggi vi presento un posto che se non lo conoscete diventerà la vostra seconda casa è un garden fornitissimo per quanto riguarda il barbecue secondo me è uno dei centri più forniti del centro italia la siamo a roma siamo a roma sud il garden si chiama solara garden e sono fornitissimi hanno di tutto apro parentesi facciano pure il nostro libro e la cosa non ci dispiace affatto se siete amanti del barbecue se vi piace grigliare se vi appassionano le fiamme che trasformano il cibo dovete venire qui fondamentalmente perché c'è di tutto allora qualcuno potrebbe dire ci si parla a me piace il barbecue ma non sono capace oddio ho paura a scegliere chi mi aiuta chi non mi aiuta ecco qui incontrate questo signore qua vedete lui è Carmine allora Carmine io mi tolgo il microfonino e te lo metto sotto la devi farci una promessa dimmi se viene qualcuno che vaga per questo meraviglioso spazio espositivo tu lo devi guidare no assolutamente certo spiegheremo tutte le tecniche spiegheremo i prodotti ci pensi te posso stare tranquillo o i miei ragazzi vediamo ok perfetto quindi allora ragazzi venite tranquillamente Carmine e il suo staff vi guideranno state tranquilli vi spiegano tutto nel dettaglio ce l'hai un carrello che io devo fare la spesa? prego vieni facciamo la spesa perché oggi mi servono un sacco di cose allora intanzi tutto una graticola di quelle tradizionali non basta mettiamola qua la più classica delle graticole poi vi volevo far vedere uno strumento che non è utile utilissimo ciminiere d'accensione tavolette per affumicare e quelle qui con queste ci si fanno delle ricette sfiziose e poi vedete le chips sempre per affumicare mostarda smoky mountain sauce Tennessee red sauce pinze spadole di tutte e di più ovviamente non puoi non avere queste adesso non ho comodo sono comodissime una delle principali difficoltà quando grigliate il pesce è che vi rimane attaccato se usate queste graticole non vi rimane attaccato allora devo decidere che barbecue portarmi c'è questo smoker c'è questo che è usato poi vi dico perché li vengono usati e qua ci sono tutti i principali barbecue in commercio c'è anche il big green egg avvicinatevi voglio far divertire big green egg è un barbecue speciale è la rolls royce dei barbecue guardate quanto costa questo 2257 però se dite che venite a nome di Bracino ancora vi fanno lo sconto vendono anche i barbecue usati sapete perché perché qui fanno i corsi barbecue dei corsi barbecue molto qualificati con gente molto brava quindi se volete imparare voi vi segnate al prossimo corso barbecue adesso andiamo a curiosare io però porto prima il carrello in cassa qui al solara garden ovviamente trovate tantissime piante se avete un giardino troverete senz'altro cose interessanti però a noi interessa sapere quello che stanno preparando alla lezione di barbecue oggi c'è il modulo l'abc del barbecue è in corso in questo istante allora andiamo a curiosare andiamo a vedere questo qui è un costato intero di maiale a cui come prima operazione andiamo a togliere il grasso superficiale signora come va bene grazie si si benissimo sta facendo la trimmatura ovvero la pulizia del grasso in eccesso dalla pezzo di costina bisogna mettere un paio d'occhiali come mio come va va bene un corso simpatico molto accessibile molto comunicativo e di condivisione come va come va è bella è bella pulire poi mangiare è ancora meglio e beh certo noi aspettiamo state con ansia tra un paio d'ore e chi si muove noi qua stiamo nel frattempo tra una storia su instagram un post su facebook il nostro corso barbecue targato webber organizzato da solara garden è in pieno svolgimento i barbecue cominciano a sfrigolare i due coach hanno iniziato a mettere la ciccia sulla griglia e là io direi che è il momento di andare a curiosare ancora più da vicino cari amici di principi ancora questi sono i coach del corso beber che stiamo organizzando e stiamo vedendo qui oggi al solara garden di roma sud allora che hai fatto fabrizio di buono che c'è di buono per chi? un banalissimo hamburger cioè la ricetta è segreta ma posso anche svegliare poi dovrei uccidere tutti i telespettatori no 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 ho preso l'operatore esatto quindi noi non lo svegliamo però ce lo ce lo grigliate e ce lo mangiamo volentieri va bene dopo lo assaggiamo a stiamo questo è l'hamburger che mi hanno preparato i coach di questo corso barbecue qui alla solara garden assaggiamo com'è buono è buono però prima di finire di mangiarmi io volevo salutare qui i corsi barbecue di quanto li fate? ma i corsi noi li facciamo adesso li faremo uno o due al mese ne faremo quindi qui all'aria aperta tranquilli se volete imparare a grigliare se volete imparare a maneggiare il barbecue se volete imparare a fare ricette sfiziose buone divertenti e faranno godere i vostri amici dovete venire qua al solara garden se state nel centro Italia bene io vi saluto prima di continuare a sbranarmi questo vi abbraccio forte vi saluto forte come dico sempre che l'abbraccio sia con voi ciao 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 ciao